E' un nuovo cappellino Nei piani della Supercell perché non se ne parla più tanto Ma che sta iniziando a far parlare molto di sé Nel senso che vedo molti commenti a riguardo Molti attacchi inerenti a questo gioco Va por quando si può giocare Va por qua, va por là Cerco di rispondere a tutto Vi ricordo che tutti in realtà Le contenuti usciti riguardo a questo gioco Io li ho già portati sul canale Continuerò a farlo una volta a settimana Fino a quando non effettivamente avremo notizie aggiuntive Vi porterò un contenuto riguardo a Clash Heroes E la domanda di oggi è Quando si potrà giocare a Clash Heroes Quindi quando apriranno i server Andremo a rispondere a questa domanda Prima però dell'inizio del video Vi invito vivamente a lasciare un like Per supportare il channel E allo stesso tempo Se avete la possibilità Lasciate like E trovate il mio secondo canale Quello proprio dove parlo di educazione finanziaria Di investimenti Qua sotto in descrizione Mi raccomando andate al mio supportare Anche lì Quindi Situazione Clash Heroes Come si fa a parlare di Clash Heroes Grazie al profilo Twitter Ormai lo sapete più di me Che io parlo principalmente Grazie al mio profilo Twitter Di questi giochi E quello che abbiamo oggi da vedere In realtà È molto molto semplice Abbiamo Una nuova bio Che se la andiamo a tradurre Velocemente ci dice Esplora il mondo di Clash Porta i tuoi personaggi Clash preferiti In terre sconosciute Completa missioni epiche Diventa Clash Heroes Attualmente In fase di sviluppo iniziale Vi ricordo che questa Frase Curlently Near Live Development Clash Mini Ce l'ha avuta Praticamente Fino a una settimana prima Del lancio della beta Quindi Non ci stiamo Troppo Addocchiati Perché effettivamente È in early development Ma vi ricordo Che Clash Mini Lo era a sua volta E poi Ce lo siamo trovati L'8 novembre Così Riguardo a Clash Heroes Non si hanno notizie Dal 5 novembre Quindi stiamo parlando Sostanzialmente Da due mesi Da questa parte Se non di più Quasi tre mesi Praticamente Però 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 Non mancano i contenuti Da poter trattare Nel senso che Abbiamo analizzato Vari gameplay Ne mancano Altrettanti E oggi Volevo focalizzarmi Principalmente Sulla metodologia Di gioco Molti di voi Mi hanno chiesto Vapor Ma come funzionerà Il gioco Io ho cercato Di spiegarvelo Il più chiaro possibile Ma Non essendo io Del mestiere Alcune cose Magari me le sono fatte Sfuggire Una cosa importante Da capire E questo Direi che questo frame È molto molto Valido Perché Abbiamo due tasti Ok In realtà tre levette Una levetta Quella tutta sinistra Quindi quella lì Proprio in fondo È quella per muoversi Levetta che c'è già presente Su Brawl Stars Successivamente Abbiamo due ulteriori levette In realtà Una è una levette L'altro è un pulsante La levetta Quella lì Rossa Che vedete in posizione È il Diciamo il colpo speciale Che si carica Ogni tot Infatti in questo caso Che andrà ad utilizzarlo Come vedete Si attiverà un countdown Di 11 secondi E nell'altro caso Di quello blu È sempre un tasto Un tasto che si potrà Andare ad attivare Se voi vedete il frame Quando Quello viola Quelle quattro barre viola Diventeranno cinque Infatti una volta Arrivata a cinque barre viola Diventerà Una barra viola unica E successivamente Vedremo che abbiamo La possibilità Di utilizzare La bomba speciale Ritornando sul frame In questione Che avevamo prima Ci tengo ancora A farvi vedere Alcune cose Come funziona Più o meno La meccanica di gioco Questa Immaginatela Come un pezzo Di una grande mappa E il nostro obiettivo È quello di andare A distruggere Tutti i nemici Tutti gli ostacoli Che ci troviamo di fronte Andare a fare Delle missioni Per poi Finire il livello Questo sostanzialmente È quello che sappiamo Adesso riguardo A Clashiros Sembra sia un gioco stupido Sembra un gioco Molto molto semplice Ma vi posso assicurare Che poi Nasconde Effettivamente Delle difficoltà Attualmente Le uniche cose Che effettivamente Sappiamo Sono queste Altre robe Che in realtà Si possono vedere Anche qua Vedete più o meno Sempre quello che vi ho detto Riguardo al gameplay Spero di essere stato Più chiaro possibile Quindi è importante Per il colpo blu Che sarebbe Tra virgolette La super Vedere Quando arriveranno Tutte uniche Quindi quando si può Schiacciare il tasto Riguardo all'altro Si C'è un countdown Che si attiva Ogni tot secondi E poi ci possiamo Muovere In modo automatico Questo è quello Che si sa A riguardo Al Buon Clashiros Per adesso Però la domanda Che in realtà Ho portato oggi È quando Si potrà giocare A Clashiros Mi sembra una domanda Più che lecita Nel senso che Stiamo aspettando Il gioco Da un po' di tempo Quello che vi So dire io È che c'è stato Un periodo Di Apertura Ai giocatori A luglio Che io non ho potuto Partecipare Purtroppo Mio malgrado Intanto non si poteva Registrare Quindi non avevo Neanche la possibilità Di darvi Eventuali Eventuali feedback Ma si sa Che adesso Tra poco tempo Dovrebbe lanciarsi Una sorta Di alpha test Di questo gioco Un alpha test Che dovrebbe essere Un libero Per tutti Che io non vedo L'ora assolutamente Di portare Non so Minimamente Se avremo la possibilità Di portarlo via live Via registrazione Devo ancora informarmi A riguardo Ma sicuramente Approfitterò Della situazione Creatasi Per portare Dei contenuti Anche su quella Eventuale alpha test L'alpha test Dovrebbe in realtà Partire Penso Verso marzo Aprile Non si sanno Ancora delle date precise Ma il primo Quadrimestre Dovrebbe essere Massimo secondo Quindi Vedremo effettivamente Quando verrà Verrà lanciato Io non vedo l'ora Di avere Delle informazioni A riguardo Questi sono sostanzialmente I concetti importanti Da ricordarsi Andando ad analizzare Altre cose Riguardo alle mappe Dato che voi Molti mi avete chiesto Anche ma por quali mappe Ci sono Queste sono le mappe In questione Ci sono una prima mappa Che era quella verde E questa qua è l'altra Quella un po' grigia Tipo su un castello E la seconda mappa A disposizione Per adesso Non c'è molta disponibilità In realtà Penso che ci sia Ma che non ci sia Stata presentata E a questo punto E a questo punto Mi viene in mente Anche un'eventuale mappa Tema sand Dato che Abbiamo anche Delle numerosi Rimandi A una continua Sandstorm Quindi perché Perché non può essere Anche Effettivamente Un Tema sand Chi lo sa Vedremo Cosa ci dirà Il futuro Il contenuto Termina qua Io spero che vi siate divertiti Spero soprattutto In realtà Che vi sia stato utile Vi invito nuovamente A passare dal secondo canale Nel caso qualcuno di voi Fosse interessato Ed inoltre Lasciare like Iscrivervi al canale Attivare la campanella Sia su questo Che sull'altro canale Vi lascio il link Per abbonarvi qua sotto Se volete Abbonarmi a livello economico Ed inoltre Se avete la possibilità Di passare dai social network Tutto ciò Mi fa molto piacere Dato che io Cerco di star sempre Abbastanza in contatto Con voi Quindi social network Qua sotto in descrizione Come al solito Le live Sono sempre Alle ore 16 Potrebbero slittare Verso le 16.30 Insomma Le live Indicativamente 16.19 Variano in questo lasso di tempo Trovate comunque sempre Il link Per informarvi dell'orario Sia su discord Che su Su instagram Dove vi aggiorno In tempo reale Io con le storie Noi ci vediamo domani Alle ore 14 Qua sul canale Con un nuovo video E se volete Oggi per le ore 16 Siamo in live Quindi ci possiamo divertire Un po' Un po' tutti assieme Ecco Ciao belli Ciao 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 Grazie a tutti.